Laure ad honorem per essersi distinti nell'impegno a rendere una delle piazze più frequentate della città una latrina a cielo aperto. Questo è ciò che si meritano i dottori e i familiari dei nuovi laureati all'Università di Bari Aldomoro. Bottiglie di vetro, coriandoli, vastoi vuoti e resti di torte. Questo è lo spettacolo indecoroso che si vede in piazza Cesare Battisti nel periodo delle lauree. Nessuno dice non dover festeggiare, anzi, un traguardo come quello della laurea, così tanto sudato, deve essere onorato come si deve. Ma è anche vero che non si può lasciare una piazza in queste condizioni, quando a pochi metri ci sono i vidoli della differenziata. Di certo, il dito deve essere anche puntato contro chi si occupa della raccolta dei rifiuti. Probabilmente si dovrebbe procedere un po' prima, così da eliminare lo scenario indecoroso prima che la città si svegli.